Pronti? Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Noi presentiamo il Nordic Walking, che è una nuova disciplina, uno sport nuovo che in Campania ancora non è conosciuto da tutti, da Roma in su è pieno. Noi stiamo cercando di portare, mettere persone su strada che fanno un'attività completa che prende tutta la fascia muscolare del corpo, un po' tipo come il nuoto, a differenza della camminata o la corsa che ci prende solo la parte sotto, questa ci va a prendere anche la parte superiore e ci va a mettere in sicurezza le articolazioni e quindi ci dà un beneficio, basta andare su internet e leggere quali sono i benefici del Nordic Walking. Ora che cosa chiediamo? Guardate dove siamo costretti a Nola a praticare questo sport, a cercare di insegnarla, a cercare di far crescere questa attività sportiva che è bellissima e sana. È un'associazione! Noi facciamo parte della Nola Running, la quale si occupa di camminata sportiva, avendo istruttori di camminata sportiva, si occupa di corsa, si occupa in questa nuova attività di Nordic Walking e abbiamo due istruttrici, Ersilia Catapano e Maria. Aiutateci! Facciamo in modo che non... Cosa, 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 che uno spazio... Questo è uno sport che si fa all'aria aperta, chiediamo uno spazio, chiediamo strade che si possono usare per camminare, messe in sicurezza, pulite, perché siamo costrette a correre tra l'immondizio e le macchine. Guardi che lì c'è quella caserma, dietro alla caserma ci sono delle casermette di proprietà comunale, molto belle, quindi alberate e cose. Basterebbe anche lì, probabilmente... Diciamo che ci serve uno spazio aperto, perché la nostra palestra è all'aperto, però non vogliamo stare nello smoggo, bensì verde, vogliamo vedere il verde. Quante persone hanno la... Per adesso sono solo una decina che si sono, stiamo iniziando... Vogliamo presentare le sue... Certo come no, prego! Una nostra associata, Laffaella Solentino, sono di Nola e insegno al liceo Albertini. Un'altra nostra associata e questa è la nostra maglia che ci rappresenta, fai leggere bene, ok? Maria Barcia, questa è la prima volta che faccio Nordic Walking e ne ho sentito tanto parlare, quindi vorrei proprio ci fosse uno spazio adeguato per tutti noi. Noi facciamo la camminata, ma la camminata adesso vorremmo ampliarla, quindi aiutateci, aiutateci a trovare uno spazio. Io invece Antonella, è il primo corso che faccio, il corso base, ma sto iniziando questa attività. Io mi chiamo Lucia, lo faccio proprio per salute perché ho avuto grossi problemi di schiena. Chi te l'ha consigliato? Il fisioterapista mi ha detto che è un'ottima attività e quindi insomma ho intenzione di praticarla e proporrei, se fosse possibile, l'utilizzo del campo sportivo perché so che si può fare sullo sterrato. Bravissima, bravissima. Quello sarebbe ideale per noi. Io sono Ercilia Catapano, sono l'istruttrice di Nordic Walking, sto con la Nola Running e chiedo uno spazio aperto. Complimenti.